Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video Oggi ho una challenge incredibile Come potete vedere in mano ho uno scar Sono nella mia modalità preferita E potrò usare solamente Bostarma che si chiama scar Che mi piace un botto Con cui mi spammo un sacco Non avremo cecchini potremo solamente usare lo scar Infatti ho l'inventario pieno di scar Mi hanno pure cecchinato Ok ragazzi Provo? Ci provo? Ah no non ci provo Dai Che tavolo faccio? Ok Sto costruendo a caso Costruisco nell'aria Ok Oggi non so proprio camminare su Farnit Hashtag NAB non so camminare su Farnit Scrivetelo tutti nei commenti Ok ragazzi Mi hanno cercato di colpire Ma io scrivo tutti i colpi del mondo Attenzione Vabbè Giocare solo di scar è difficile Sono scar Odio le scar Non è Guarda Guardate raga Non è mai più la mia arma preferita Mai più Ma da dove? Ma da dove? Ma da dove? Ma dove mi? Ma cosa fanno? Ma dove le trovano queste mitragliette a fuoco rapido? Ma che roba è? Ma da dove? Sparano? Ok ragazzi Oh ma no Stanno cecchinando C'è uno lassù Ok C'è uno là Ma come? Già finita la partita Con questo video può già bastare Anzi no Facciamo un'altra partitina raga Un'altra partitina Purple vs Green E perché non vuoi cominciare? Dai Un round Un round Allora io fermo Siamo con me Alleluia Che mi parta Che parta Ok È finalmente partito Prendiamo solo scar Nell'inventario Vediamo Chi è di più La nostra squadra è più popolosa Questa cosa È una bella cosa Bellissima Che muoiono Ok Non siamo più la squadra Siamo uguali Per fortuna Almeno così vale E vabbè Ma subito Ma subito Ma subito Allora Giocare solo Di scar È difficile Lo dovete dire Avete mai fatto Una challenge Da giocare Solo Da quest'arma Che È scarsa Dopotutto Cioè Mai visto Un'arma più scarsa Di questa Vero Scherzavo dai È abbastanza bella È una bella arma Con cui vado a far cadere Questa bella costruzione Non faccio cadere Che figo Anche sto prendendo Un giro Si può costruire qui Abbiamo 20 miliardi Di materiale Non possiamo Sprecarlo Un pochino Anzi Si ricicla Non si spreca Mai C'è qualcuno Qui dietro L'al centro C'è qualcuno Vado ad ammazzarli Ma sono in tanti Amma mia Allora Mai un'altra volta E poi finisco Il video Se mai un'altra volta Finisco Il video Ok Ok raga Spero che il video Vi ci sia piaciuto Supportate un codice Sui Fresti Wars Iscrivetevi al canale E lasciate un bel like E lasciate un po' di E lasciate un po' di E lasciate un po' di E lasciate un po' di